Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Sciolto in acqua calda, Tachiflu Deck è una calda cura che combatte in fretta i sintomi da raffreddamento e decongestione alle vie nasali. Tachiflu Deck. E la giornata continua. E da oggi la calda cura di Tachiflu Deck è anche all'aroma arancia rossa. Da Angelini.